Arrivano sabato gli University Games a cura del CUS Genova, una prima edizione, Angelo Bedini, che vedrà protagoniste tante discipline in due impianti di gara. Sì, per la prima edizione degli University Games, che è la sfida tra i vari dipartimenti dell'Università di Genova, che si sfideranno in 14 discipline sui nostri impianti, dal Carlini San Martino a Valletta Pugia, dove ci sono gli altri nostri impianti. La sfida prevede 14 sport a punto, al Carlini verrà fatto calcio e beach volley, mentre a Valletta Pugia palla a volo, basket, tennis, dodgeball, ping pong, calcio ballile e altri sport di contorno, perché vuole essere una festa di divertimento e sport non chiaramente agonistico, come corso con i sacchi, percorso ostacoli e l'orientering. Le gare vanno dalle 10 e mezza alle 4 e mezza, verso le 5 e 5 un quarto ci sarà il ritrovo di fronte al parcheggio del Dipartimento di Fisica e Chimica, dove ci sarà la zona delle premiazioni, con Mauro Nasciuti che fa una breve storia di questi 70 anni del CUS, perché quest'anno sono i 70 anni del CUS, e poi dalle 6 in poi partirà la festa universitaria aperta chiaramente a tutti.